Grazie per la visione! Perché così sei più imprevedibile e lei ti segue e ti guarda molto di più? No! Ok! Voce, voce! Matti! Dai, dai, dai! Opa! Brava, Chica! Ok, farla mettere seduta adesso! Dile anche brava, eh, quando ti guarda! Ok, adesso anche con le persone vicino stessa cosa, vai piano, piano, proprio! Grazie mille, grazie mille, grazie mille! Grazie mille, grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!